Un carico di marijuana del peso di oltre 442 kg è stato intercettato al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dal personale dell'Agenzia delle Dogane Monopoli che hanno arrestato un bulgaro per l'ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti. La partita, trasportata su un auto articolato proveniente da Barcellona, diretto in Bulgaria, era occultata tra bobine di carta per uso industriale ed articoli per la casa davanti ai quali Jackpot, uno dei cani antidroga in dotazione al gruppo di Civitavecchia ha subito manifestato il suo interesse orientando con successo l'azione delle fiamme gialle dei funzionari del locale ufficio delle Dogane. La droga avrebbe fruttato, una volta raggiunta le piazze di spaccio, ricavi per quasi 4 milioni di euro. Anche questo sequestro che si aggiunge a quello recente di 340 kg di ascice e di marijuana è frutto della proficua sinergia tra il Corpo e l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli da ultimo rafforzata con un nuovo patto di collaborazione siglato lo scorso anno tra le due istituzioni.